Contento? Oh, finalmente! Parliamo della panchila che hai accettato e non una che ne hai rifiutata. No, beh, ma io se accetto è perché sono convinto dal punto di vista tecnico che potrei fare un buon lavoro. Quindi ti avevo già spiegato il perché, avevo detto no alle due situazioni precedenti. Sì, è una scelta tecnica. Crediamo che questa sia una squadra che ci possa permettere di fare un buon lavoro. Quindi abbiamo pensato di ringraziare il Presidente della società e di dire sì. Io andai, non rimasi a Cagliari perché parlando col Presidente in quell'occasione non ci siamo messi d'accordo non sulla durata ma sui soldi. Ecco, quindi serenamente il Presidente mi voleva offrire una cifra. Io volevo un'altra cifra, non ci siamo trovati d'accordo e ci siamo lasciati. Prima di tutto una condivisione tecnica. Ecco, poi dopo vengono, non dopo, prima avviene il rapporto che si ha con le persone che ti scelgono, poi il rapporto tecnico e naturalmente anche l'aspetto economico.